Porca vacca, abbiamo un grado in una maniera incredibile Mamma mia quanto cavolo sono forte Ragazzi comunque vi devo dare degli ordini Quindi correte da me in questo momento subito ragazzi Ragazzi eccoci qua in partita E oggi ci sarà una rivendicazione Incredibile da parte mia verso di voi ragazzi Perché vi ricordate uno degli ultimi video del capitolo 2 Ovvero in cui voi Comandavate la mia vita per 24 ore su Fortnite Oh meglio Eh ragazzi no Oggi faremo totalmente il contrario Quindi io comanderò la vostra vita su Fortnite Per 24 ore Quindi se adesso qualcuno di voi è un pompa Me lo portate subito istantaneamente E non voglio sentire una minima esitazione Perché sennò farete una brutta fine Esatto Non ho il pompa Ho io il pompa e non te lo voglio portare Sentirebbe cosa succeda Ok Non è andato fuori dalle scatole Ecco Quindi ragazzi allora iniziamo con le buone Avete della pietra o del legno? Sì Io avevo 50 Non so neanche Correte qua da me a portarmela Ora adesso veloci anche Proprio adesso L'ultimo che arriva Anzi L'ultimo che arriva mi dà Sia pietra che ferro Ok ok Non va bene Non va bene Aspetta che trovo subito Ecco Dattato 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 Quanta roba Refe ho visto che non hai droppato nulla No Refe ho visto che non hai droppato nulla Troppa Allora Refe Parti già con un occhio brutto Cioè nel senso che ti guardo male Comunque ci stanno le persone La quindi cerchiamo di andare a far Faccio C'è C'è Caccato Adho Terrato Let's go Hai davvero Gli ho fatto Aveva 14 di vita Era In realtà Tutto il danno Io l'ho fatto Io se proprio vogliamo Dirlo Non mentire Ecco il prossimo Che mente Dovrà darmi Mille di bacca Penusciamo Vi ricordo Ragazzi Gente 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 Dove potete venire Sì Però fermo Uccido Io Un obbligo No Non puoi Chillarlo Devi scappare Non è un problema Lascialo arrivo lì E lo chilo Io ho capito Pingamelo dove sta E sono esattamente qui Comunque uno Non gli ho fatto 96 Bianco Oppure dai Calmati che sto arrivando Io dove sta Vai Ripping Fermi Chi è che è stato Rubarmelo Non lo so Non è stato Non è stato Allora Troppami tutti 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 Ma davvero Tutti 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 Mamma mia Questa volta Lei è scampando ancora Sinceramente Anzi ragazzi Un'ultima cosa che ho notato Io non c'ho ancora un po Quindi ref è proprio te Ce l'hai un fucile a pompa Oh mio dio Si ce l'ho Troppalo ora E non voglio sentire un ma Ma O però Sei presa con me Però Io ne so Presa Chi è che ha preso la kill E doveva lasciarla Ok Quindi chiedimi scusa No Che Cos'è che Hai detto Scusami Ferro Scusami Ebbene guarda Beato te che sono buono oggi Cioè Non sono tanto Però vabbè Parola Salite su questa super lamborghini bella Saltandoci sopra magari Io non ci salgo Adio Svodapiedi E best Aiuto Mi sembra di essere stato molto chiaro Salta su e andiamo veloci Va bene andiamo via Non va ad attaccarsi sul cielo Refiz Ma come fisicamente è possibile C'è un umorismo che fa di delle ragazze Oh ragazzi un lama Sapete già cosa fanno Faccano distrutto Comunque Sapete già cosa fare Ovvero Tutti 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 Avete preso La pietra Potete tenervela Beati voi che oggi Ve la lascio Comunque Dai Riprosseguiamo Ragazzi Riprosseguiamo Ragazzi Ci sta gente Scendete Uccidente Ok ragazzi Occhio Non morite Per favore Tutti Penso Io È un obbligo Non morire Distrutto Tutti Ho caccato A uno di vita Da me Lo piccolo Per mi Lo piccolo Lasciatelo piccolare Sì No vabbè ragazzi Ma questo Gabbò No Il l'ultimo E io mi prendo tutto Ragazzi Adios Allora best Stai campano Ma ci stanno altre persone Nel frattempo Quindi cerchiamo di andare A fare altre kill E io cerco di scordarmi Quello che è appena successo Cerco di scordarmi Anche se è abbastanza difficile Occhio che ti ha sparato No c'è sta gente qua Ho appena detto Sì Andiamo a pusharli Andiamo Eppure altra gente Che arriva dietro Straccato Che è questo Uno di vita Ucciso Ucciso Un'ora Io sto volando Nel nulla Ragazzi Dove siete Ragazzi Tutto il team Ci stanno Tutto il team E lo stanno pure curando Uno qua dentro 22 22 Ho bussato Ho bussato Ok Vai bravi Tutti uccisi Un altro Perfetto Non ho aiuto Non ho nulla Ragazzi In realtà Adesso Di me Ok Ucciso I bravissimi Ragazzi Oltre gente Sopra Ragazzi Mi sento Mi sento State molto attenti Ragazzi Dobbiamo per forza Killarli Questi Mi laser Non da dietro Ragazzi Sono anche dietro No Davanti Buildatevi Allora E' stato Un attimo Camperati Porca vacca Ragazzi C'è gente C'è gente Tira Queste Cavoli Special Ragazzi Occhio State molto attenti E Dove sono Push Di sopra Ok Molto Ragazzi Un altro Bravissimo Ragazzi Mi sono detto Pure Bravissimo Da solo Sono veramente Vergognosi In realtà Comunque L'ultimo Lasciate 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 La voglio Fare Io Perché L'ho Ucciso Perché Sono Veramente Beh Scampati Ma L'hai Urbata Ragazzi Dovremmo Stare Un altro In teoria Giusto Lo so Ma che Non c'è Nessuno Qua O Forse Sì Ed è Nascosto Lo lasciamo In vita Dai Lo possiamo Dai Facciamo Così Obbligo Di Non Killar L'ultimo Ragazzi Fermi Questo Squalo Qualcosa Di Oro Quindi Obbligo Sparagli Tutti Uccidero E Ragazzi Voglio Quella Cavolo Di Arma Oro Addirittura Mi Sembra Quasi Mitica Non Riesco Capire Che Armacia La Posso Prendere Io Ho Ho Già Detto Che Devo Prendere Io E Io La Prenderò Fatemi Vedere Fatemi Vedere Re Viola Ragazzi Ci Credo Questa E Buonissima Ragazzi Tanta Tanta Roba Ragazzi Che Chino Quello Che Spara La Gramata Appiccicose Che C'è Scusate Ma Che Figata Lo Affermi Però Ragazzi Ve lo Dico E Pieno Di Persone Io Molta Paura Quindi Stiamo Attenti Ti Ragazzi Ma Hanno Fatto Lo Sky Base Fermi Fermi Sbagliamola Spaccata Ragazzi Che Persona Rende Che Siamo Di Raga Dovrebbero Morire Comunque C'è Ancora Il Tizio Qualche C'è Il Cicchino Bello Che Mi Piacerebbe Quindi Se Ritiamo Lì E Stiamo Attenti Ragazzi Perché Ci Sta Pieno Di Persona Pagano Pochissima Vita Che Questo L' Ragazzi Ragazzi Pieno Di Persone Riuscite Arrivo Rai Un attimo Caldi Ci Sono Ci Sono Di Persone Dietro Regano Non so Lo so Per farci Facciamo Tranquilli Allora Ci Sta Un Camion Qua E Tanto Sono Morte Le Forca Miseria Ragazzi Non morite Ok Da me Da Vedete Da Ragazzi Non Materiali Ok Da Mera Che Una Hp Morto Sopra Occhio Ferro Io Dei Mastro Po Da Darvi In realtà Zero Mazra Che Non so Come Costruisco Da Qua Sotto A L'ultimo Ragazzi Un Dio C'era Su Uno In Fondo Porca Vacca Non Grato Unino Mania Incredibile Mamma Mia Quanto Cavolo Sono Forte Ragazzi Comunque Vi devo dare Degli Ordini Quindi Corretta Ma In questo Momento Subito Ragazzi Allora Sentite Io Vi obbligo Di darmi Scudoni Sempre Se Li Ragazzi In realtà Non fa 130 Ma fa 60 70 E fa un po Poco Comunque ragazzi La ci sta una Giampa Ci stanno Gente La Sopra Quanti Ci sono La Sopra Ragazzi Sono Tipo Tutti Andiamo Busciare Andiamo Però State Molto Attenti Ragazzi Perché Ho Morto Ok E a sto Punto Allora Faitiamo I ragazzi No Tanto Nel senso Posso Dire Una Cosa Sono Non Sono Il dio Di Forney Perché Ogni Tanto Ho Il potere Di Scomparire Dalla Scena Io Scompaio Così A In Metà Partita Circa E Quindi Ho Il potere Di Smaterializzarli Questo Sarebbe Un Potere Sì Prima Ogni Tanto Io Sparisco Uno Dei Poteri Più Uno Di Vita Si Arrivo Che Vola Che Vola Ragazzi 20 Cipo A 1 1 Un colpo Un colpo Basta Dai Vendo Ancora Gli ho Fatto Ok L'hanno Morto Attenzione Refiz Che L'ha colpito Alla fine Con un colpo Incredibile Comunque Allora Stanno Aversare Lo Stare Stando Ci Stavano A Giampo Da Qualche Parte Quindi Ho Sotto Qua Sotto Sotto Qua Ragazzi Libertati Venite qua Che C'è Una Jump E Pushate Con Me Ragazzi Lo Sto Pushando Dove Questo Che Morto Un Aveva Tu Lo Dico Perché Morti Ok Morti Tutti Ottimo Ottimo Allora Altra Cosa Incredibile Che Vi Voglio Chiedere Ovvero Un Pomba Stryker Più Bello Del Mio Io C'ero Verde Qualcuno Un Pomba Stryker Più Bello Del Incredibile Ragazzi Po Ha Detto Di Sì Senza Esitare Ma Perché Io Sono Bravo Io Sono Molto Più Bravo Di Tutti Di Tutti No 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 Ragazzi Ci Siamo Un'ora Rai Di 10.000 Ed C'è Stato Bravissimo Comunque Un'arma Super Mitica Fortissima Quella Lì Non So Che Hai Fato Bene Trovarla Perché Devi Venire Qua Sopra Adesso E Anche Pure Anche 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 Le altre Giug Signo 2 Ok Va bene Va bene Tiro Tutte Sì Va bene Ora Possiamo Andare A push Con calma Ragazzi Tanta Tranquillità Ma Soprattutto Voglio Di Due Persone Dovete Per Forza Lasciarveli Perché Ragazzi Voglio Blindare Tutti No Lasciami Quel Cicchino Ok Allora E Se Non Te Li Lasciano Ferro Cosa Fai Allora Se Non Mi Lasciano Mi Dovrete Dare 5 Mila V-Buck Appena Usciamo Da Partita Ok Non Mi Piace Sto Cosa Ragazzi Cicchino A Tutti Anche Te Beh Che Non C'è De Nulla In Questo Momento Cosa Centro Io Poco Ma Ragazzi Stavo Dando Dei bacini A Quello Assolutamente Nulla Di Che Attento Perché Stavi Rischiando Molto Sicilmente Anche C'è Ragazzi Fortissimo Perché Sono Codice Per L'ultimo L'ultimo Arrivò Nel mio Box Anzi Il mio Solo Di Cecchino Senza Blind Vai Apri Vai Ti ho blindato Fermi No Non è Cora Morto Sì Ragazzi Che Cavolo Di Spero Con No Nei Legazio Oggetti Per Supportarmi Veramente Al Massimo Grazie A tutti Ci vediamo Al prossimo Video Ciao Ragazzi Ciao Ciao Sì Sì